Sì, è stato un grande Presidente, un simbolo e un esempio per tutti coloro che lavorano nelle istituzioni e vorrei dire anche è stato uno straordinario europeista. Giorgio Napolitano ha sempre avuto l'idea che lo sviluppo, l'avvenire dell'Italia, la sua forza, sarebbero stati necessariamente dentro un orizzonte di un'Europa più unita e più forte. E questa grande elezione non la dimenticheremo. Grazie.